Ferentinos di Alcistori e Verdi Quando univa la Barozza alla Mola A come stavano a boccare la salita che i loro bambini non ce la facevano proprio più. Rimanevano fermi e i loro bambini univano a chiamare i padri. Beh, o è da una follata che i loro bambini non ce la fanno a ziccare questa salita. Non ce la fanno, ma anche se ci faccio fare tutti gli aggiri per quanto stavo arrangato per arrivare fino a io. Il padre mi allora univa sotto la scala per chiamare pure madre. Rosì, qui è terra? C'è un'altra cosa che non ce la fanno più a ziccare la salita. Allora la via era piena di sassi e allora, a forza di fuori, quando eravano i sassi più grossi che si chiamavano un filo sotto la ruota della Barozza riuscivano ad arrivare davanti alla Mola. Scaricavano prima gli sacchi di grana e dopo, chi li baruzzava che si portava pure la fena fresca luava la vacca della Barozza e ce lo metteva davanti per farla mangiare. Terentino, 25 ottobre 2003 Grazie. Grazie a tutti.